Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre effice altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera il padrone della vigna disse al suo fattore Chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattato come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Gesù non disprezza la legge, ma apprezza l'uomo per il quale Dio ha ispirato la legge. Infatti Gesù libera i sani dalla tentazione del fratello maggiore e dal peso dell'invidia e della mormorazione degli operai che hanno sopportato il peso della giornata e il caldo. Di conseguenza la carità non può essere neutra, assettica, indifferente, tiepida o imparziale. La carità contagia, appassiona, rischia e coinvolge perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita. Grazie a tutti.